Eva Enger e suo marito Massimiliano Caroletti arrivano alla volta buona per raccontarsi e ripercorrere la loro storia insieme, iniziata ormai venti anni fa, tra gioie e dolori condivisi. La coppia è stata poi sorpresa dalla figlia Jennifer, in collegamento con lo studio Rai, che ha raccontato di essere scuggita per un soffio al terribile incidente in cui i genitori erano rimasti coinvolti. Eva Enger e il marito erano rimasti coinvolti in un terribile incidente nel 2022 in Ungheria. Entrambi avevano riportato delle gravi fratture, pur non essendo in pericolo di vita. Trasportati in due ospedali differenti, distanti circa 200 km fra loro, avevano sofferto la distanza forzata, condividendola con i fan sui canali social, prima di essere riuniti nella stessa stanza. Una dura prova anche per il loro legame, anche perché le condizioni di Eva, peggiori di quelle del marito, l'avevano costretta a letto incapace di muoversi per circa 40 giorni. «Sono cintura nera di pazienza», racconta Massimiliano. «Ho riportato 11 ossa rotte e ne porto le conseguenze. Versamento pericardico, danneggiamenti di vari organi, tranne il fegato. Da poco ho fatto un nuovo esame cardiologico e si è assorbito il versamento, finalmente. Ma, anche dopo questi due anni, le peripezie mediche non sono finite per l'attrice e modella, dovrà presto sottoporsi a una nuova operazione, in particolare alla gamba, programmata per il prossimo dicembre, per rimuovere il titanio, che le sta provocando molti fastidi. «Se hanno superato quel momento drammatico, di certo ad attenderli ci sono altri 20 anni d'amore», incalza Caterina Balivo. Eva e Massimiliano si erano sposati nel 2013 e hanno rinnovato i voti nel 2019. Le grandi storie d'amore a volte iniziano in modi inconsueti. Il primo appuntamento tra Eva Enger e Massimiliano Caroletti ad esempio è stato, come i due raccontano da Caterina Balivo, caratterizzato da incomprensioni e imbarazzi. Per sorprendere Eva, infatti, il marito aveva deciso di prenotare un intero ristorante, ma la modella non aveva colto la sorpresa e aveva pensato che il ristorante fosse vuoto perché il cibo era scadente. Lui ha affittato un ristorante così in sala eravamo da soli e io ordinai un'insalata ma controllai che non ci fossero insetti dentro perché, dato che non c'era nessuno, pensavo fosse scadente. Un altro punto a sfavore era poi stata la conversazione, Massimiliano, nervoso, aveva iniziato a parlare delle ex. Non avevo capito la sorpresa. Durante la cena, poi, una noia impressionante perché lui mi raccontava delle sue ex, le sue relazioni passate e io andai in bagno a chiamare la mia amica che mi venne a salvare e così ce ne andammo. Quando siamo arrivati alla macchina, Massimiliano mi ha fatto proprio pena perché era triste e deluso, allora io gli ho dato un bacio. Da lì, abbiamo cominciato a parlare e siamo rimasti fuori fino alle 4 della mattina, un inizio orrendo ma stiamo insieme da 20 anni. Eva Enger ha un rapporto molto stretto con sua figlia Jennifer, che, per volere della madre, vive attualmente in collegio. Dovendo andare entrambi spesso a Roma per lavoro, non potevo di certo lasciare una bambina di 15 anni da sola a casa. Per questo ho ospitato a casa mia la migliore amica di mia madre, che non c'è più. Lei però è severissima, più di me. Jennifer non vuole stare con lei e mi ha proposto di restare al college in questi periodi. È poi a casa quando ci siamo. Dorme addirittura tra noi. Jennifer si è poi collegata con lo studio Rai e, ricordando l'incidente potenzialmente mortale che aveva coinvolto i suoi genitori, ha raccontato come lei fosse scampata per un soffio a quel rischio per la severità di sua madre. Avevo preso un brutto voto in matematica e mamma mi ha detto che non potevo tornare a casa. Mi aveva chiesto di sostenere un'interrogazione per migliorare la media. Io c'ero rimasta male ma grazie a Dio non sono andata. Voi cosa ne pensate?